Musica Nuovi servizi smart per gli utenti e riorganizzazione interna per aumentare l'efficienza, cento sulla mobilità sostenibile e integrata. Queste le linee guida di Conero Bus, la principale società di trasporto pubblico locale su gomma della regione Marche, impegnata ad attuare il piano industriale varato ad inizio 2014 per modernizzare l'azienda. Il bilancio dell'attività e i nuovi progetti dell'azienda sono stati illustrati ad Ancona nel corso di una conferenza stampa dal presidente di Conero Bus, Muzio Papagli. Noi chiudiamo con dati positivi per quanto riguarda la gestione operativa, per cui non ci sono problemi sotto questo aspetto. Tra i minori incassi ma anche la riduzione dei costi riusciamo a trovare un equilibrio, per cui siamo tranquilli. Poi la sfida sarà realmente nel 2015 per trovare le risorse per lanciare lo sviluppo e per partecipare alla gara. Quindi ci sono state riduzioni di trasferimento allo stato centrale e regionale? Ci sono state anche le riduzioni legate alla diminuzione dei passeggeri, però altrettanto abbiamo fatto una riduzione dei costi interni, per cui questo ci ha aiutato. A dire la verità ci ha aiutato anche la riduzione dei costi dei carburanti, perché gasolio e metano sono scesi non per opera nostra, ma grazie ugualmente. Presidente, con la riorganizzazione interna dell'azienda prevede un nuovo direttore generale, ma anche una nuova gestione di squadra? Sì, la riorganizzazione interna prevede, a parte che arriverà il nuovo direttore generale, quindi questo è importante come guida, ma una gestione più di squadra e management, perché è importante valorizzare le risorse interne e renderle partecipi a questi obiettivi che ci sono, avendo chiaro qual è il loro ruolo, quali sono le loro responsabilità. Per cui la nuova organizzazione è partita il 23 gennaio e adesso è in rodaggio, perché la torbetta è solo pochi giorni, ma sono molto fiducioso sulla squadra. E con le candidature per il nuovo direttore generale sono già partite? Sono già partite perché noi successivamente all'uscita del vecchio direttore generale abbiamo incaricato una società di trovare il candidato, naturalmente la selezione è già partita, ci sono state tutta una serie di prime selezioni, noi avremo nelle prossime settimane la short list da cui puoi andare a scegliere. Obiettivo principale dell'azienda, quindi il raggiungimento e il consolidamento dell'equilibrio economico-finanziario è in un contesto non facile che vede la continua riduzione dell'intervento pubblico e i vincoli di bilancio più stringenti. Per quanto riguarda il personale non ci saranno quindi dettagli? Noi non abbiamo nessuna idea di tagli del personale. Prima andiamo a ottimizzare quelle che sono le nostre risorse interne, le nostre capacità. Non è nel piano nessun taglio di personale. Ecco nel 2014 è partita questa nuova esperienza, la gestione dei servizi scuolobus. Esatto, noi abbiamo fatto nascere questa società di servizi ad agosto del 2014, abbiamo partecipato alla gara per l'assegnazione degli scuolobus nel comune di Corinaldo e di Trecastelli. siamo riusciti a vincerla dove abbiamo portato tutti i mezzi nuovi, quindi è stata una bella esperienza perché il primo bando di gara è il primo lo vinciamo, quindi è stato un bel inizio. Ecco, come ogni azienda anche Conerobus ha puntato all'innovazione con MyCicero. Sì, MyCicero è entrato già da noi dal primo gennaio, per cui questo è ok, ma per noi già questa è storia. Per cui oltre a MyCicero che vogliamo rinforzare, naturalmente perché dobbiamo portare maggiore comunicazione e conoscenza ai nostri cittadini di questa modalità nuova di pagamento, però vogliamo portare anche altro, quindi andiamo anche a portare innovazione sulle rivendite dei biglietti, quindi sulla disponibilità, sulla facilità di trovarli sulla città come nell'altro territorio. Nella riorganizzazione avete inserito per la prima volta il commerciale ma anche la comunicazione? Sì, allora nella nostra riorganizzazione abbiamo inserito il commerciale perché se dobbiamo trovare altre fonti di incasso tra virgolette, dobbiamo trovare altre modalità, per cui potenziare il noleggio. Come si fa? Non è che dobbiamo aspettare che i nostri utenti o le scuole ci chiedano il preventivo per portarli in gita. Noi dobbiamo avere una strategia, dobbiamo avere un'impostazione e per far questo qualcuno poi lo deve seguire, deve portarli sul territorio e abbiamo inserito un commerciale. Come abbiamo inserito anche l'anima comunicazione, sia interna sia esterna, perché solo se ci conosciamo, noi conosciamo i nostri clienti e i clienti conoscono i nostri servizi, possiamo fare un passo in avanti. È iniziata una sfida? È iniziata una sfida molto complessa, ma noi siamo fiduciosi perché il piano è complesso, articolato, su tutti i fronti, ma c'è una buona risposta perché abbiamo visto che anche i nostri colleghi, qualsiasi funzione, si sta adoperando perché questo diventa realtà. Per quanto riguarda i mezzi riservati alle persone disabili, come siete organizzati? Tutti i mezzi nuovi rispondono ai criteri ultimi, per cui anche i sei filobus che sono arrivati hanno tutti i sistemi per non vedenti o per le persone disabili. Quindi attenzione massima su questo. Oltre ai mezzi stiamo facendo un'attività di sensibilizzazione anche verso i nostri autisti per le attenzioni, per il modo di comportarsi e nelle attenzioni verso gli utenti, verso le persone. Nel 2014 i mezzi con aerobus hanno trasportato quasi 15 milioni di passeggeri e percorsi oltre 8 milioni di chilometri. L'azienda dispone di una flotta di 226 bus e filobus, 24 bus da noleggio, 26 trammesi di servizio e mezzi tecnici di officina. La società ha 460 dipendenti, di cui 398 unità dette all'esercizio, conducenti, controllori e verificatori, 30 addetti alle attività di manutenzione e 32 unità con funzioni amministrative. Con aerobus inoltre partecipa al consorzio ATMA.